buongiorno ragazzi eccoci a presentare oggi la vita e le opere di francesco goia è un pittore spagnolo dell'ottocento tra i più importanti della sua epoca e in generale tra gli autori più noti in tutto in tutto il mondo cominciamo subito dalla sua dalla sua vita era nato a saragozza nella metà della circa la metà del settecento 1746 poi vi rimando poi brevemente ai punti della sua vita la cosa importante è che per molte volte entra tenta di entrare all'accademia di madrid e viene puntualmente respinto alla fine rassegnandosi un po al fatto che non può fare degli studi regolari diventa apprendista di bayeux che era il pittore di corte quindi un pittore importantissimo e ovviamente tra i più segnalati della sua della sua epoca almeno in spagna e a questo punto conosce entrando a corte con l'apprendista quindi con un ruolo di gregario conosce le opere di molti artisti che avevano lavorato a palazzo reale a madrid in particolare nella palazzo reale di madrid ci sono dei importantissimi affreschi di tiepolo se vi ricordate tiepolo morì proprio a madrid e poi un altro pittore italiano che era già quinto che erano dei pittori dalla del settecento quindi da poco insomma erano di una generazione precedente neanche più di tanto e questo lo influenzerà moltissimo poi nel 1766 partecipa a un altro concorso per entrare all'accademia ma viene anche in questo caso bocciato e a questo punto decide che l'aggiornamento è importante e quindi compie questo viaggio di aggiornamento tra il 1770 e il 1771 in Italia però se lo deve pagare ma facendo un bilancio probabilmente ha pensato che era meglio accreditarsi poi in Spagna avendo già fatto questo viaggio che lo avrebbe portato a vedere le più grandi opere d'arte italiane piuttosto che continuare in questo in questo limbo insomma di allunato che probabilmente non lo avrebbe portato da nessuna parte e nel corso di questo viaggio visiterà le più grandi città italiane e questo lo porterà anche a conoscere le opere di autori come Michelangelo e Raffaello che sicuramente aveva visto a Roma, Siena, Napoli ovunque gli era capitato di andare ovviamente i grandi pittori italiani a Roma in particolare Michelangelo e Raffaello avevano sicuramente una grande facilità di essere appunto conosciuti. Ritorna poi in Spagna e questo gli porta sicuramente dei vantaggi perché è chiaro che chi tornava dall'Italia aveva una marcia in più. Nel 1773 sposerà Josefa Bayeux che era parente proprio del suo maestro e poi a questo punto ritorna a Madrid e qui lavorerà appunto per le manifatture reali di Santa Barbara cioè che cos'era? Era una sorta di fabbrica dove lui preparava i cartoni, i disegni e poi venivano tessuti degli arazzi quindi era un lavoro artistico anche se non era sicuramente tra le arti tra le arti maggiori e poi viene ammesso finalmente nel 1780 all'Accademia di San Fernando. Probabilmente il fatto di essere andato in Italia aveva avuto qualche vantaggio. Essere ammesso all'Accademia voleva dire essere un pittore titolato quindi voleva anche dire avere le credenziali giuste per poter esercitare l'attività di pittore ed ecco che comincia ad ottenere delle grandi commissioni, i committenti lo contattano e la sua fama si accresce tanto più che in questo modo lui si emancipa dall'ombra del cognato di Bayeux e poi comincia a fare dei ritratti e a questo punto si avvicina al re Carlo III. Nel 89 viene nominato poi pittore del nuovo re Carlo IV e questa figura è molto importante quindi segnatevi Carlo IV perché sarà il regnante a cui Goya dovrà moltissimo nella sua vita. Dopodiché però la vita gli riserva un brutto scherzo. Nel 92 viene colpito da una grave malattia e questa malattia però lo renderà invalido e determinando la sordità. Capite che all'epoca essere sordi voleva dire essere fortemente menomati e anche immarginati perché non c'erano assolutamente agevolazioni, non c'era nemmeno la comprensione, chi era sordo era messo ai margini e questo si riverbera moltissimo nella sua pittura, nella sua quotidianità. Ci sono poi la serie dei capricci che vedremo e poi il ritratto della famiglia di Carlo IV su cui ci soffermeremo a parte. Altri due capolavori sono la maga vestita e la maga desnuda di cui poi parleremo e poi avviene un fatto epocale cioè la Francia viene sottomessa alle truppe napoleoniche che stanno invadendo tutta l'Europa, il re viene spodestato e Goya assisterà alle scene appunto di resistenza della popolazione madrilena che in tutti i modi cercherà di cacciare e di opporsi agli invasori francesi e vedremo poi che nel grande capolavoro che è proprio la fucilazione alla montagna del principe Pio, la famosa fucilazione del 3 di maggio. Infine poi dopo il ritorno, dopo il congresso di Vienna alla corte spagnola, ritorna a Fendiando VII che era l'ergittimo erede di Carlo IV che era stato spodestato ma a questo punto Goya è più anziano, si trasferisce prima di tutto fuori città dove prenderà questa casa che chiamerà la quinta del sordo, cioè la casa del sordo e in questa casa dipingerà le pitture nere che secondo appunto i suoi studiosi, gli esperti sono un po' il suo davvero il suo capolavoro perché esprime proprio una modernità, anche una violenza che molti che nella storia dell'arte appunto non si era forse mai vista a questi livelli. Nel 1824 andrà via dalla Spagna e vivrà gli ultimi anni a Bordeaux dove morirà nel 1828. Ecco riprendiamo con una prima opera del 1777 in cui Goya ritorna e guarda ai suoi modelli che possono essere i modelli tiepoleschi, i modelli più classici con quest'opera chiamata Il parasole. È una scena di vita così di campagna, di vita quotidiana in cui un ragazzo e una ragazza coperti da questo parasole, soprattutto la ragazza viene riparata dal sole, dal suo giovane accompagnatore e tra di loro c'è questo cagnolino posato in grembo alla giovane e ovviamente il parasole perché? Perché era un elemento importante perché ovviamente le ragazze da bene non avevano piacere nel abbronzarsi perché l'essere abbronzati, essere scuri in volto era tipico dei contadini, delle persone che lavoravano la terra all'aria aperta e quindi questo denuncia il fatto che la ragazza in questione è una giovane probabilmente di un inceto sociale più elevato. È una delle opere più interessanti di questo periodo di Goya anche se molto lontana da quello che poi Goya farà in seguito. Sempre guardate l'attenzione per gli abiti, Goya era veramente straordinario nel dover dipingere i tessuti, nel dover rendere il dettaglio delle stoffe e quindi vedete che in questo quadro appunto il soggetto poco significativo però estremamente raffinato e poi i colori stesi sulla tela senza il disegno preparatorio. Dai critici oggi è meno apprezzato rispetto a altre opere perché sembra un po' una pittura di genere e di paesaggio con scarsissimi contenuti insomma alla sua base, però quest'opera se la riguardiamo è di qualità veramente straordinaria e poi vedete che il paesaggio è gran parte di quello che sta alle spalle con questa specie di boschetto reso con delle pennellate molto veloci e poi questa pianta che sembra che nasca un po' dal nulla nella parte retrostante e poi anche questo muro tagliato in diagonale che chiude come una quinta scenografica la scena. Il gesto della ragazza elegantissimo con il ventaglio appena posato in mano, ecco il ventaglio è un altro degli elementi delle donne di una certa levatura sociale perché il ventaglio serviva per farsi aria ma delle volte anche per ripararsi dagli occhi dagli sguardi indiscreti e poi il cagnolino messo in grembo che invece rileva la fedeltà, rileva anche un animale d'affezione, quindi un elemento in più che dà alla scena un tono confidenziale e particolarmente gradevole. Abbiamo visto che Goya era stato molto attratto dalle novità che venivano dal mondo francese soprattutto in materia di filosofia, di illuminismo ed è in questa chiave che vi invito a guardare questa celeberrima opera. Uno dei capricci, il sonno della ragione genera mostri. È un'acqua forte, quindi un'incisione, in cui vedete quest'uomo piegato su se stesso e alle sue spalle questi pipistrelli, questi uccelli, questi volatili che sembrano quasi colpirlo. Ecco questo è uno delle metafore se volete più interessanti di questa di quest'epoca. In fondo Goya si è accorto che quando gli uomini smettono di ragionare e si affidano totalmente ai loro impulsi non ne viene nulla di buono e anzi tutto quello che sembra razionalmente gestibile, riconducibile nella giusta direzione diventa enormemente enfatizzato e le paure, le superstizioni in particolare, prendono il sopravvento generando poi uno stato di profondo turbamento e di violenza. E questo in un'epoca in cui la Spagna non era sicuramente uno tra i paesi più evoluti d'Europa, anzi era in uno stato culturale di grande arretratezza dove in qualche modo anche la Chiesa contribuiva a mantenere questo stato di paura, di oscurantismo, mentre invece nel resto d'Europa si andava in ben altra direzione e quindi lui vuole in qualche modo sottolineare questo aspetto che reputa assolutamente pericoloso e negativo proprio nel immaginare, nel metterci davanti agli occhi l'uomo ripiegato proprio sulla sua scrivania dove ha posato carta e penna, quindi l'intellettuale che in questo caso emblematicamente rinuncia a guardare al di fuori ma si ripiega su se stesso, dorme e dormendo lascia che le paure, tutto quello che c'è di negativo e soprattutto di irrazionale prenda il sopravvento in un moto turbinoso e assolutamente, come dire, pericoloso proprio perché la gente, la popolazione, le persone quando sono lasciate in preda alle incertezze, alla irrazionalità portano sempre a conclusioni davvero devastanti e questo è proprio l'invito proprio a non perdere il controllo anche nei momenti più tragici e poi ovviamente la paura di quello che è inconscio, di quello che è al di dentro dell'uomo e che quindi delle volte quando si libera proprio si manifesta in tutta la sua, come dire, irrazionalità ma anche pericolosità. Eccoci di fronte a uno dei capolavori riconosciuti di Goya che è la famiglia di Carlo IV. Abbiamo visto che il pittore si era accreditato attraverso una serie di ritratti molto ben riusciti e quindi viene avvicinato dal sovrano di Spagna il quale dopo averlo appunto reso elevato al rango di pittore di corte, gli incarica di eseguire il ritratto per la sua famiglia. Ovviamente si tratta di un ritratto ufficiale quindi togliamoci subito il problema, i membri della famiglia non posarono tutti insieme per questo quadro ma come potete vedere Goya ne fece un bozzetto in cui c'erano i vestiti, c'era sommariamente raffigurata la scena e poi si riservò di ritrarre i singoli membri della famiglia per studiarne i volti in maniera definita. Ecco nella pagina del mio sito che vi prego poi di raggiungere io vi ho messo alcuni spunti su Goya e in particolare se andate al Tink Link che vi ho preparato, eccolo qua, voi trovate l'immagine già commentata. Siamo in questo interno del palazzo reale di Madrid e il re Carlo IV, eccolo qua, lo riconoscete dalle numerose, dai numerosi in onoreficenze, dall'abito magnifico, è al centro della scena insieme alla moglie Maria Luisa Borbone Parma. La coppia di regnanti tiene in mezzo uno dei figli, il figlio minore, l'infante Francisco de Paula, mentre la regina tiene vicino a sé l'infanta Maria Isabella. Infanta e infante in spagnolo sta per figlio del re. Poi in primo piano il Ferdinando che era il primo genito, re del trono, che diventerà Fernando VII. Alle sue spalle l'altro fratello Carlo Maria Isidoro. Poi troviamo la figlia, l'infanta Maria Luisa, ecco qui, che tiene in braccio il figlio Carlo e qui il marito di lei, il principe Ludovico. Poi seguono altri membri della famiglia, in particolare qua dietro potete vedere Antonio Pasqual che era il fratello del re, di cui si nota anche una certa somiglianza e qui invece messa da parte l'infanta Carlotta Gioacchina, un'altra parente del re. E in fondo qui potete vedere l'infanta Maria Josefa che era un'altra sorella del re. Tutto questo per dare l'impressione di una famiglia unita, di una famiglia che si presentava in un ritratto ufficiale di grandi dimensioni, tra l'altro in maniera unita e compatta. E poi qui in penombra potete vedere lo stesso Francisco Goya che si è ritratto proprio nell'atto di dipingere il quadro. Questo particolare vi farà sicuramente venire in mente un altro grande quadro che era quello di Velázquez, Las Meninas, che abbiamo visto qualche settimana fa. E ovviamente la citazione è evoluta, sapete che Goya aveva tra i suoi esempi da seguire proprio la pittura di Diego Velázquez, il pittore del Seicento, che aveva realizzato questo splendido quadro Las Meninas appunto con un gioco di specchi per ritrarre in maniera indiretta e omaggiare la famiglia reale. Che cosa notiamo di abbastanza stridente in tutto ciò? Notiamo che gli abiti sono meravigliosi, Goya poi ha una particolare felicità nel ritrarre lo splendore di questi vestiti magnifici, ma anche l'estrema, lo stremo realismo dei volti dei regnanti che sono proprio ritratti nella loro veridicità, potremmo quasi dire nella loro bruttezza, tranne forse i bambini. E in questo Goya forse voleva alludere al fatto che i giovani non erano ancora stati toccati insomma da tutto quello che c'era di negativo nell'età adulta. Molti critici hanno pensato che questo quadro fosse una sorta di polemica con la famiglia reale in cui venivano enfatizzati insomma la bruttezza e perché la famiglia reale si era anche un po' distinta, soprattutto il re, per un clima di arretratezza nella Spagna. E quindi volevano alcuni critici sottolineare questo spirito di polemica di un uomo come Goya che era invece abbastanza in supposizioni illuministiche. In realtà Goya era al servizio della famiglia reale e quindi questo non l'avrebbe mai potuto fare. In realtà la sua volontà era proprio quella di rendere i visi di questi nobili nella loro veridicità, toccati da una luce che vedete è diagonale, una luce che li investe e li illumina e quindi ci svela la loro realtà, il loro essere umani e persone. Quando ancora si credeva, loro lo credevano, che il re era qualcosa che veniva da Dio, da alto. Ecco, un particolare che forse vi avrà incuriosito è questa ragazza girata di spalle. Non è un gesto di maleducazione, ma questa giovane era destinata a essere sposa di Ferdinando, ma non era ancora stata scelta per la sua giovane età e quindi l'idea che lui fosse fidanzato era sicuramente nell'aria, ma non era ancora stata scelta la fortunata fanciulla. E quindi Goya decide di rappresentarla, rappresentarla, ma con il viso girato. L'accoglienza del quadro fu un po' tiepida, perché non perché il re si vide un po' dileggiato con questa appunto espressione non troppo furba, non troppo saggia, ma perché riteneva che il contesto non fosse splendido. In fondo, con tutti i quadri meravigliosi che potevano esserci nelle stanze reali, Goya aveva messo alle spalle dei paesaggi abbastanza ordinari e questo suscitò un certo malumore del sovrano. Ecco, questo è un bellissimo quadro che vi invito appunto a studiare e a riguardare nei prossimi giorni. Ecco, ripartiamo da una breve analisi aggiuntiva sulla famiglia di Carlo IV e trovate qui appunto alcuni dettagli che riguardano proprio il quadro. Ma adesso invece ci appostiamo la nostra attenzione sulla Maha desnuda e la Maha vestida. Sono due opere interessanti che vedono Goya esercitarsi su un tema abbastanza interessante che è quello del nudo femminile, che aveva dei grandi precedenti, se pensiamo a Tiziano, a Giorgione, alle Veneri, però quelle erano Veneri, quindi erano figure diverse perché erano delle figure appartenenti al mondo delle divinità classiche, quindi ci si poteva spingere anche in qualcosa di azzardato, in qualcosa anche di un po' osè, mentre invece qui stiamo parlando di una donna vera, non è una Venere. E quindi questi due quadri sono molto particolari e vennero ritrovati nelle collezioni del ministro Godoy che aveva fatto fare questi due quadri con un meccanismo abbastanza divertente per cui si vedeva questa giovane donna vestita, ma poi con un meccanismo appunto di meccanico il quadro si girava e appariva appunto la versione diciamo più piccante e dunque questo ministro Godoy aveva questo ingegno molto particolare. Questi due quadri sono al prado di cui però la Mahade Snuda venne mostrata solo nel Novecento e venne ben tenuta in un archivio segreto proprio perché ritenuta eccessivamente lasciva. Ecco qui, secondo alcuni appunto la donna rappresentata è l'amante di Godoy, Pepita Tudò e questi quadri erano destinati al suo boudoir, il suo gabinetto privato, quindi non certo un luogo pubblico ma un luogo dove lui riceveva evidentemente le sue amanti o dove stava anche da solo ecco quindi non erano certo per una per un pubblico di spettatori. E quindi il ritratto di questa donna e vediamo nella versione vestita appunto questa questa giovane distesa sul letto con un abito raffinatissimo con queste babbucce ai piedi che ci guarda con uno sguardo intrigante e con il viso appunto abbastanza malizioso però in tutto questo non c'è nulla di particolarmente sgradevole perché appunto la donna è vestita e non e non genera nessun tipo di malizia. Diversamente invece è la seconda versione cioè la versione come dire che si azionava e che si veniva vedendo con questo meccanismo appunto in cui quel quadro appariva perché la donna invece è nuda ed è provocatoria buttata su questo divano verde con queste lenzuola con molto sottili di un letto disfatto e possiamo anche immaginare per quale ragione e che con lo stesso sguardo intrigante qui a tutta un'altra come dire versione ci invita o meglio invita lo spettatore a guardarla evidentemente ad amarla e vediamo proprio che non ci sono è molto dettagliato questo la luce investe la giovane e quindi svela anche i particolari anatomici del suo corpo insomma tutto questo doveva essere un gioco anche abbastanza come dire intrigante per il committente a cui Goya evidentemente si era aveva accettato proprio per esercitare la sua la sua arte in un tema proprio del doppio della figura vestita e della figura in nuda ecco e su questo e su quest'opera direi che possiamo riflettere appunto sulla volontà di realizzare un ritratto realistico non idealizzato e proprio dall'altra parte lo studio anatomico molto attento contrapposto alla versione vestita invece dello studio degli abiti dei panneggi insomma una luce come colpisce la figura e questo fa sì che Goya abbia anche in questo caso realizzato un altro grande capolavoro eccoci a un'altra opera di Goya tra le più significative del suo percorso si tratta della fucilazione del 3 maggio dobbiamo contestualizzare storicamente questo fatto che cos'era successo la le truppe napoleoniche erano entrate in Spagna e avevano spodestato il re Carlo IV e soprattutto a Madrid si erano imbattute in una grande resistenza questa resistenza viene illustrata da questo quadro che sono proprio gli eventi del 2 maggio 1808 un quadro che fa da pandante con la fucilazione questo è il momento precedente il giorno prima quando le truppe francesi che erano state accompagnate diciamo così da delle truppe di mamelucchi che erano delle dei soldati che venivano dal nord dell'Africa avevano invaso Madrid e avevano appunto assalito la popolazione questo quadro è molto importante perché Goya che realizza sia questo sia la fucilazione alcuni anni dopo per esaltare le doti di resistenza eroiche patriottiche dei suoi concittadini ci rimanda a una scena come dire molto molto cruda molto particolare e vediamola nel dettaglio vedete che per esempio c'è una scena concitata in cui ci sono dei patrioti degli uomini e che sono i madrileni che stanno in tutti i modi opponendosi alle truppe a cavallo degli invasori che sono guidate lo vedete sulla vostra destra da un ufficiale francese che si può riconoscere dal dall'elmo e dalla sciabola e da altri soldati invece vestiti con abiti orientaleggianti che sono appunto questi mamelucchi queste truppe appunto che venivano dal dal nord africa sapete che il nord africa era sotto il controllo francese e quindi c'era proprio una sorta di come dire di alleanza insomma tra questo quello che non sfugge a Goya in questa concittazione è proprio il dato cruento con i morti buttati per strada con i cadaveri che sono grondanti di sangue ma c'è anche un altro dato che fa riferimento alla storia passata e qui bisogna aprire un attimo una parentesi voi forse ricorderete che la spagna per anni era nei secoli passati era stata conquistata dagli arabi dagli ottomani e la fine di quel periodo che poi è di occupazione era stata poi definita reconquista e la caduta dell'ultima città in mano agli arabi era stata proprio granada che era caduta nel 1492 ora questo fatto così remoto che distava ormai tantissimi anni alcuni secoli viene però richiamato perché l'odio insomma contro gli oppressori si associa con l'orgoglio nazionale che aveva visto nei secoli passati proprio gli spagnoli ricacciare gli arabi oltre giubilterra e qui invece ritornano come truppe di invasione alleate ai francesi quindi c'è proprio questa sottolineatura che si ricollega alla storia è una storia che i spagnoli sentivano particolarmente vivano ancora nei loro cuori in questo contesto di battaglia di sopraffazione vedete che le armi che si usano sono i fucili ma sono anche le sciabole i pugnali quindi una lotta corpo a corpo convulsa feroce e durissima con la città di madrid che fa da quinta scenografica questo appunto è uno dei quadri di grande formato perché ricordiamoci siamo sempre nell'ambito della pittura di storia quindi si illustrava un evento storico e quindi le regole erano quelle di adottare un'opera un formato molto grande ma veniamo al quadro di cui ci stiamo appunto occupando la fucilazione vedete anche qui 226 centimetri per 345 anche questo conservato al museo del prado e qui c'è una breve spiegazione che poi potrete sicuramente leggere ma io vi rimando alla pagina del mio sito dove ho messo la fucilazione del 3 maggio già pronta e ve la faccio vedere qui in tink link con i diversi bolli che spiegheranno ogni singola scena allora innanzitutto è una scena notturna come vedete i rivoltosi che si erano opposti alle truppe francesi vengono sommariamente passati per le armi quindi uccisi in questa processione di persone che stanno salendo al patibolo e che vengono di volta in volta fucilati dalle truppe appunto in questa atmosfera notturna spettrale e andiamo con ordine la fucilazione risale al 1814 come vi ho già anticipato goia realizza questi due quadri questo è quello che abbiamo precedentemente visto proprio per esaltare le virtù patriotiche dei suoi dei suoi contemporanei e poi appunto questo quadro viene realizzato quando lui aveva già 68 anni e viene proprio commissionato su commissione del consiglio di reggenza cioè quelle persone che appunto reggevano il governo in spagna nella fase di transizione ecco qua alcuni elementi allora questo per esempio è lo sfondo del paesaggio urbano di madrid con una chiesa con proprio nell'ombra come se la differenza tra luce e ombra fosse la divisione tra la cupezza del clima che si respirava in città e la luce drammatica fissa sulla tragedia vedete che qui trovate subito il corpo di una persona uccisa come abbiamo visto anche nel primo piano anche dell'altro quadro goia indulge moltissimo sulla sull'orrore della morte in questo caso sono le persone uccise buttate per terra poi qui vedete un frate che in questo caso eccolo qui che confessa gli ultimi condannati a morte e nella confessione appunto cerca di dare l'ultimo conforto prima dell'esecuzione poi quest'uomo che ha il pugno stretto e che è la simbolo della della rabbia del popolo che nonostante tutto fa di tutto per resistere agli oppressori questo altro invece esprime un grandissimo disprezzo e infine l'ultimo in fondo che si copre gli occhi quasi a non voler vedere al centro la figura emblematica è quest'uomo con vestito di bianco il bianco è il colore della della purezza con le mani a croce quasi a emulare la croce di gesù quindi lui come gesù questo apparentamento che si sacrifica per per gli altri e che muore da innocente il bianco in fondo è il colore dell'innocenza mentre invece il viso ci richiama l'orrore l'incredulità e vi sottolineo sempre il fatto che siamo di fronte a un quadro di grandi dimensioni quindi visto da vicino tutti questi dettagli sono ampiamente percepibili e un'altra cosa che goia ci vuole mettere in luce è la fisionomia di quest'uomo stiamo parlando del volto tipico di un contadino non certo di un nobile e quindi è una persona semplice che paga per tutti è in ginocchio con le braccia alzate in un estremo gesto di resa ma in fondo è un contadino alla pelle scura di chi sta fuori di chi lavora all'aperto e quindi non è un pericoloso politico che deve essere ucciso e passato per le armi questa è la condanna che goia vuole darci e poi ancora questo spazio estremamente ristretto in cui si affollano le figure e poi le persone che si sono ormai arrese invece è molto interessante il gruppo del plotone di esecuzione eccolo qui il plotone di esecuzione in cui abbiamo tutte queste queste baionette che sembrano quasi un fila no come fosse una una macchina da guerra che ripete il gesto ossessivo dello sparo e quindi della morte e poi un altro dettaglio che il plotone di esecuzione non ha volto goia sceglie di non dare un volto al male di non dare un volto a chi sta commettendo un efferato delitto in fondo ai suoi occhi nei confronti di persone semplici che hanno lottato per per la libertà e quindi li mette in ombra senza viso senza dare loro riconoscibilità sono il male non ha volto è un è un male che viene rappresentato ma che non in cui noi non troviamo nessuna fisionomia e poi al centro questa grande lanterna che richiama il bianco e il giallo dell'abito del del condannato morte questa grande lanterna il punto luce da cui si dirama tutta l'illuminazione della della scena che ha proprio in questo in questo contrasto tra la luce e l'ombra il grande fascino di un quadro che veramente tra i più importanti ecco qua un un apparentamento che possiamo vedere è proprio nel richiamo anche alla crocifisso e un po ai colori che se andate a riguardarlo la crocifissione di san pietro e nella cappella cerasi abbiamo visto a roma la crocifissione di san pietro un pochino richiama questi colori queste queste atmosfere con anche in quel caso i sgherri che stanno per crocifiggere san pietro a testa in giù che non hanno volutamente volto e il cui volto è messo volutamente nell'ombra ecco questo è uno dei capolavori di goia su cui vi chiedo ovviamente di prestare particolarmente attenzione ed ecco infine l'ultima parte le pitture nere che goia realizza alla fine della sua vita in quella che viene chiamata la quinta del sordo cioè la casa del sordo sono 14 dipinti che qui vengono ricostruiti appunto per come erano stati prodotti dal dall'artista si abbinano temi religiosi e temi mitologici e anche come la la pittura estrema insomma della prodo insomma di questo artista avevamo cominciato con il parasole con quelle atmosfere così distese e finiamo invece con la violenza con la follia il male il caos ecco tutti questi particolari che si esprimono poi in un capolavoro di goia che è saturno divora uno dei suoi figli eccolo qui si trova al prado era stato trasportato dalla casa alla sutela e quindi intelato e messo nel museo del prado e vedete che alla fine della sua vita goia riprende questa scena così violenta drammatica di questo dio crono saturno insomma che mangia i suoi figli e per una perché pensa appunto che lo spodesteranno invece giove che è l'unico che gli sopravvive perché viene messo in salvo dalla dalla madre affronterà poi il padre e lo sconfiggerà proprio perché i greci ritenevano che il destino era ineluttabile anche per gli stessi dei che dovevano soggiacere al destino questa scena è un grandissimo impatto morale è una scena di una brutalità incredibile la cattiveria la la violenza la follia questi occhi spiritati e poi questo viso ormai bestiale probabilmente goia e nella fine della della sua vita insomma ha visto tanto ha vista tanta violenza ha visto tanti fatti susseguirsi nel corso della sua esistenza e quindi per questa ragione è in un periodo di grande di grande turbamento tenete conto che era sordo e quindi per questa ragione lui percepiva anche la realtà in maniera molto diversa dalle persone diciamo con piene facoltà quindi in questo in quest'opera viene proprio fuori questo sentimento così violento che all'interno che lui coglie all'interno dell'umanità tenete conto che queste opere sono state fatte per casa sua non sono state fatte per una committenza e quindi l'autore è ancora libero di dover gestire le proprie le proprie scene secondo non dei canoni legati appunto a un rapporto di committenza ma sostanzialmente alla sua libera ispirazione quindi è qualcosa anche di molto di molto moderno in questo senso vedete che in quest'opera il dio mangia come in questa maniera così efferata e poi goia stesso indulge anche nel dettaglio insomma della carne di questo di questo aspetto potremmo vederla anche come una metafora dei tempi cioè di quanto dei tempi passati che si stanno che hanno distrutto il tempo presente e che quindi ci si prospetta un periodo di grandi sconvolgimenti e in fondo goia probabilmente muore con una sfiducia piuttosto palese nei confronti della modernità e dei tempi che verranno bene detto questo direi che abbiamo esaurito il nostro argomento vi invito quindi a studiare sul vostro libro di testo e a seguire questa lezione e vi auguro appunto buon lavoro grazie per l'attenzione